ciao a tutti bentornati nel canale benvenuti in un nuovo video amiche di unghie eccoci qua un nuovo refill dunque sono passate quattro settimane dal refill rosso precedente e quindi con la mia punta media sto andando ad abbassare togliere il colore abbassare un po di prodotto qui con questa ragazza utilizzo acrigel perché ci troviamo meglio in quanto lei fa un lavoro abbastanza manuale insomma usa le mani abbastanza e acrigel le tiene veramente benissimo quindi perché vi ho detto questo va bene sto andando a togliere il colore e un po di un po di prodotto ad abbassarlo e con la stessa punta comincio a ridarmi la forma all'unghia facciamo una coffin quindi vado a stringere un po i laterali e ad alzarli leggermente come si usa in questa forma va bene la punta che utilizzo è la media già ve l'ho detto e queste punte le ho io ve lo dico in tutti i video i miei contatti la mia email è giù nell'infobox mandatemi email per favore non mi mandate messaggi privati perché i messaggi me li perdo quindi se volete informazioni per favore mandatemi email sta giù nell'infobox va bene come faccio sempre in tutti i video tutti i video perché tanto è sempre la stessa cosa vado appunto ad abbassare il prodotto poi andrò a preparare l'unghia naturale e qui il risultato finale sarà un colore abbastanza estivo e con delle farfalline visto che le farfalle sono il mood di quest'estate mi sembra di capire le vedo un po dappertutto oltre alle unghie le vedo anche sui vestiti insomma va bene il mood dell'estate 2020 che non è proprio un bell'anno saranno sono le farfalle ok pulita tutta la più o meno la superficie abbassato il prodotto e preparata la forma vado con il sanding bands a preparare l'unghia naturale qui ho lasciato la velocità normale che insomma la mia velocità di procedimento e per farvi vedere appunto come faccio con il sanding bands il sanding bands assolutamente non deve essere più basso di una grana 180 non deve essere più basso perché si rischia di fare veramente dei danni le rotazioni con cui uso il sanding bands sono 3000 3000 giri massimo 3500 ma non di più quindi questo è il modo con cui preparo l'unghia naturale ormai sono anni che lo faccio in questo modo e non c'è nessun tipo di problema con il cleaner vado a pulire l'unghia e a deidratare l'unghia naturale il mio cleaner ma anche il vostro sono sicura è a base il primo componente alcol isopropilico e quindi mi funziona benissimo anche da deidratante vado a mettere un primer acid free e poi andrò ad applicare la base in questo caso sto utilizzando una base rubber è rosata questa base e le basi rubber si possono utilizzare anche come base vedete qui io poi andrò a lavorare con acry gel e mi funziona benissimo potrei lavorare anche con gel e funzionerebbe lo stesso oppure la base rubber la possiamo usare per fare il semi permanente rinforzato ho fatto anche un video ultimamente se vi interessa ve lo lascio qui in alto a destra va bene ho steso appunto la base su tutta l'unghia e mando in lampada e qui andiamo a fare un'unghia con il nostro amato glitterozzo eccolo qua unicorn acry gel glitterato di michelle nails ultimamente sta spopolando questo acry gel ci sono tanti colori ho fatto una diretta mi sembra dove vi facevo vedere questi questi colori tutto quello che vi posso lasciare ve lo lascio qui in alto a destra seguitemi su instagram vedete in alto a sinistra c'è il mio nick come mi chiamo su su instagram venitemi a seguire perché tante cose ve le faccio vedere su instagram e sono cose corte brevi che non faccio vedere qui su youtube dunque questo acry gel lo sto usando da qualche tempo vi devo dire che una volta polimerizzato è durissimo da limare è molto duro da limare quindi alla fine che cosa faccio prendo un pochino di prodotto che ne basta veramente poco perché è pieno pienissimo di glitterozzi e praticamente lo uso come colore che vuol dire che poi adesso lo manderò in lampada e sopra andrò a metterci un altro prodotto per incapsularlo qui lo incapsulerò con acry gel trasparente ma potrei tranquillamente incapsularlo anche con gel trasparente perché faccio questo perché così quando lo vado a limare limo quello sopra non limo quello quello glitterato che è molto 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 duro veramente da limare e quindi io vi consiglio di utilizzarlo in questo modo cioè se volete fare una struttura completamente in questo modo vi consiglio di farla molto sottile la struttura con il glitterozzo e poi sopra lo andate a incapsulare con qualcosa di più facile da limare io mi sto trovando molto meglio in questo modo perché ho provato a farlo anche direttamente limando direttamente lui è veramente duro ve l'ho detto anche forse nella diretta insomma ne avevamo già parlato un po di questa cosa comunque ecco il modo per usarlo assolutamente lo troviamo perché non si può non usarlo cioè è splendido vedete qui appunto sto lavorando a grigel clear che anche questo è di michelle clear quello che sto usando si lavora benissimo è molto trasparente quindi prodotto super approvato anche qui nelle altre dita vedete ho utilizzato a grigel questo è il color camouflage di bin nail con il caldo un pochino si è allentato questo questo prodotto ma insomma è sempre è sempre a grigel e non cola mai come colerebbe un gel magari auto auto livellante insomma il caldo purtroppo ma a me poi non piace quindi per me purtroppo è quando fa caldo quindi una questione personale comunque faccio benissimo tutte e quattro le dita insieme anche se mi è colato vedete qui nella punta lo ritiro su prima di cominciare a lavorarlo e insomma non c'è nessun problema una volta che l'ho lavorato lui non cola cola solo quando è in grande quantità e quindi giustamente con con il dito piegato lui tende a scendere semplicemente va bene ok questo è quello che quello che mi vedete fare e fatto questo lavando in lampada e poi passiamo alla alla limatura mi mi lavoro l'acrigel spostandolo e tirandolo e aggiustandolo dove deve andare in modo che la struttura è già abbastanza uniforme e non devo andare a limare troppo o ad aggiustare troppo con con la lima mi controllo se è colato da qualche parte insomma e cerco di riaggiustarlo e quindi niente mando in lampada e anche agrigel con il caldo potrebbe bruciacchiare un pochettino con il caldo ripeto tutto è strano e quindi io tendo a dimezzare la potenza della della mia lampada va bene fase limatura con la punta extra fine sempre inutile dire che ce l'ho io queste punte e vado appunto ad uniformare la superficie dell'unghia vado a togliere eccesso di di prodotto e abbasso assottiglio la punta dell'unghia perché appunto la vado ad alzare perché insomma bene o male tutte le unghie un pelino tendono un pochino poi a scendere in più poi questa forma coffin tende a salire con i laterali e quindi ecco va bene vado a pulire sotto per svariati motivi sia per pulizia sia per assottigliare la punta sia per ridare la forma quindi comincio a fare questa cosa con con questa punta e poi continuerò e finirò con la punta piccolina e qui ho mandato accelerato perché insomma sono sempre lo stesso passaggio agrigel se lavorato bene se posizionato bene ci risparmia ma beh tutti anche il gel ci risparmia ci risparmia lavoro nella limatura però agrigel vi devo dire che è un prodotto che mi piace abbastanza mi piace abbastanza anche se è vero che sapendolo lavorare con il gel facciamo anche un pelino prima perché l'acrigel comunque va lavorato un pochino di più vabbè detto questo eccola qua la piccolina la mia puntina la mia nuova passione vado a assottigliare il giro cuticole il prodotto nel giro cuticole e nel frattempo se un pochino di prodotto ha camminato verso sotto la cuticola in questo modo con questa punta riesco a toglierlo e quindi non avrò nessun tipo di sollevamento con la stessa punta faccio girare la mano e pulisco sotto l'unghia pulisco sotto l'unghia e rimuovo totalmente in alcune persone rimuovo totalmente l'unghia naturale che è ricresciuta in queste quattro settimane quindi questo è uno di quei casi in cui totalmente rimuovo l'unghia naturale il sotto dell'unghia è molto più bello è molto è pulito è nuovo ogni volta praticamente c'hai una ricostruzione nuova è tutto pulito ed è tutto molto più bello evita il distaccamento dell'unghia naturale dal prodotto perché può succedere anche questo e quindi sono un po di fattori messi insieme che fanno sì che questo procedimento veramente è una ormai vedo che lo fate praticamente tutte questo procedimento e quindi bene molto molto bene va bene adesso vado ad utilizzare un pretty gel di michelle nails lo 044 un colore molto carino molto estivo mi chiama proprio estate questo colore anche se vi ripeto ma il caldo non piace però purtroppo lo dobbiamo vivere quindi cerchiamo di viverlo al meglio quindi questo 044 si stende abbastanza bene l'ho lavorato normalmente come come tutti i prodotti ha bisogno di due passate ma non mi crea nessun problema il fatto di fare doppia passata io la faccio comunque anche con quelli super coprenti e con la seconda passata mi vado ad aggiustare un po meglio il giro cuticole se non riesco ci sono alcune unghie che riesco a lavorarle meglio da subito alcune che ho bisogno del pennellino insomma dipende anche un po dai momenti dalle situazioni dalla stanchezza da quanto dobbiamo metterci insomma da un po di fattori comunque in questo caso sono andata abbastanza bene senza usare il pennellino per aggiustare il giro cuticole vado a pulire dove ho sbordato e va bene su due unghie vado a mettere il gel foil questo è quello di binnell e vado ad attaccare dei foil con le farfalle mi sono tagliata questi pezzettini questi foil è di michelle non so se in questo momento sono già presenti sul sito ma insomma io vi lascio il link del negozio di michelle e vedete un po se sono disponibili quindi ho tagliato pezzettini di farfalle e posizionate dove dove volevo insomma vedete la i foil sono molto 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 semplici e molto risolutivi e fatto questo vado a chiudere questa questa decorazione vado a chiudere il foil con la base rubber perché la doppia sigillatura per queste cose che potrebbero creare sollevamenti diciamo che è consigliata quindi vado praticamente a dare una passata di base rubber anche questa è di michelle vado a passare a modi a modi sigillante vado a passare un po di base rubber mando in lampada e poi dopo chiudo tutto quanto con il sigillante questo extreme shine hd questo ad alta densità è un sigillante che consente anche lui da solo la doppia sigillatura perché è un sigillante abbastanza denso spesso che può anche funzionare un po come auto come dire è bello denso e aiuta a chiudere un po questi lavori le polveri eccetera eccetera scusate mi sono dilungata questo è il risultato finale a noi è piaciuto tantissimo questo glitterozzo che ve lo dico a fare le farfalline il colore insomma questo lavoro ci è piaciuto tanto anche lei è stata molto soddisfatta e spero che anche a voi sia piaciuto questo video tutti i link di interesse ve li lascio giù nell'info box aprite l'info box perché ci sono cose interessanti regalami il solito like un bacio grande e ci vediamo alla prossima ciao